Gagioli e Daniele faccio il pensionato, ma fino alla giovane età ho cominciato a consumare i venti. Avevo estratto i venti che avevo, mi hanno fatto l'impiantologia dei 18 perni e poi mi hanno messo i venti. Prima provvisori e poi definitivi. A chiunque me lo possa chiedere perché al di là delle piccole screzie che avevo avuto mi sono trovato bene. Montaglia bene, non ho avuto nessun tipo di problema per ambientarmi, per chiedere le cose, ho risolto sempre i problemi. Lo rispia bene, ragazzi bravi, ragazzi mi piacciono e tanto. Sono belle le ragazze di Mondaria.